buonasera amici e amiche di nuova news 24 parliamo di una coppia dell'edizione di tentation island che sta ormai sovrastando social e quant'altro stiamo parlando ovviamente di mirko e perla i due sono stati ovviamente protagonisti dell'ultima puntata proprio di tentation island ricordiamo che la ultimissima puntata in treno domani sera ma intanto cosa è successo davvero dopo la fine del talent tramite mirko e perla sembrerebbe proprio che filippo bisciglia abbia posto la parola fino alla loro relazione ci sono state delle conferme scriveremo il destino delle ultime due coppie domani sera ma sapremo cos'è accaduto ai restanti fidanzati e fidanzate dopo aver lasciato il programma e proprio mirko e perla sembrerebbero aver finito definitivamente di vedersi da cosa lo abbiamo capito è chiaro il padre di lui avrebbe proprio poco a che fare ovviamente con la sua ex fidanzata perla perché avrebbe tolto il segui proprio sui social lan follow quindi si capisce che è una reazione dopo la fine proprio della relazione tra i due pare proprio che il signore che abbia smesso di seguire su instagram l'ex nuora abbia invece messo il follow quindi il segui proprio a lei la talentatrice greta con cui proprio mirko ha avuto una storia ovviamente non d'amore ma un flirt proprio durante il la permanenza nel programma in tanti erano convinti per la sarebbero tornati insieme ma si devono ricredere e i rispettivi avvicinamenti con i tentatori erano stati mossi solo dalla voglia di fare in gelosia l'uno l'altra ma in realtà invece purtroppo per i loro fan sembrerebbe proprio che greta stia definitivamente con mirko almeno si stiano frequentato sono molti infatti gli indizi che portano a pensare ciò ma intanto amici di nova news 24 vi diciamo inoltre che qualche giorno fa proprio la tentatrice ha condiviso un tik tok d'amore che sembrava riferito proprio al giovane mirko dopo di che pare anche che i due siano stati avvistati insieme in diversi locali queste sono le novità vi chiediamo cosa ne pensate della nuova coppia mirko e greta greta ricordiamo la tentatrice di tentation island se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24 ciao